L'inizio di stagione per la Lazio è da dimenticare. Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte per la squadra di Maurizio Sarri in Serie A ed un pareggio strappato all'ultimo minuto nella prima giornata di Champions League sono il bottino per la squadra bianco-celeste. Ma nonostante ciò questa settimana è stata fondamentale per la Lazio. È stato approvato il suo bilancio al 30 giugno 2023. Come è andata? Come sta la Lazio? Mettetevi comodi, ne parliamo insieme subito dopo la sigla. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Iniziamo l'analisi del bilancio della Lazio da una semplice considerazione. La squadra bianco-celeste proviene da quattro esercizi consecutivi in passivo. Come è andato il quinto? Meno 29,5 milioni di euro. Questo è il risultato netto. Passivo? Ancora una volta. Perché? Dove perdere la Lazio i soldi e soprattutto che cosa succederà adesso? Ne parliamo tra un attimo ragazzi. Prima iscrivetevi su questo canale se non l'avete ancora fatto. Non vi costa nulla ma è fondamentale per me per far crescere la nostra piccola comuni. Dai non ve lo chiederei se non ci tenessi così tanto. Passiamo ad analizzare voce per voce il bilancio della Lazio e cerchiamo di capirci qualcosa in più. La prima voce dei ricavi è senza dubbio i ricavi da gara. La Lazio nell'ultima stagione ha incassato 17 milioni di euro rispetto ai 10 della stagione precedente. È un settore in crescita. La Lazio in questa stagione andrà a disputare la Champions League. Avrà maggiori incassi al botteghino. Quindi su questo settore, su questo ramo, mi sento di dire che tutto va bene. La seconda voce del ricavo di una società sportiva e la più importante sono i ricavi dai diritti televisivi. Questi sono stati pari a 105 milioni di euro nell'ultima stagione in crescita rispetto agli 85 della stagione precedente. Anche qua va tutto bene. Spostiamo la nostra lente di ingrandimento sui ricavi da sponsor e pubblicità. Questi si sono attestati a 20,7 milioni di euro in decrescita rispetto ai 23 milioni di euro,9 della stagione precedente. Qua qualcosa in più si deve fare. È fondamentale costruire altre voci di ricavo per rendere la società meno sensibile ai ricavi dal botteghino e ai ricavi dai diritti televisivi. I ricavi di una società devono essere anticiclici e quelli dalle pubblicità sono fondamentali per mantenere dritto il timone nei momenti di difficoltà. Vi dice qualcosa il covid, ecco ci siamo capiti. Quindi qua qualcosa va fatta. Un'altra voce importante dei ricavi della Lazio sono gli altri ricavi che sono stati pari a 5 milioni di euro e quelli derivanti dai diritti dei calciatori appunto dalla gestione dei loro cartellini. Questi hanno generato altri 5 milioni di euro di cui 4,6 da plus valenza del mercato e 0,4 per quanto riguarda invece i prestiti che la Lazio ha concesso in merito da alcuni calciatori. I ricavi in totale si sono attestati a 153 milioni di euro. Ok, sono in crescita rispetto alla stagione precedente. I soli ricavi della produzione sono stati pari a 148 milioni rispetto a 135 della stagione precedente, più 13 milioni. Ma dobbiamo fare i conti con l'oste, poi stiamo parlando sempre di mele e mele. Ok, i ricavi sono cresciuti, ma quando pensiamo una cosa sulla bilancia ha due facce. Dobbiamo andare a vedere i costi. Se i ricavi sono cresciuti perché la Lazio ha questo debito? Perché la Lazio ha questa passività? Perché i costi sono cresciuti purtroppo. Il costo più importante è quello che riguarda i costi del personale, di cui la voce più importante è il mondo ingaggi dei calciatori. Questo si aggira attorno ai 110 milioni di euro in crescita rispetto ai 99 dell'anno precedente. E' qui che bisogna abbattere il chiodo. La Lazio sotto la gestione dell'odito ha avuto una sola parola. Sostenibilità. Il presidente mai ha speso più di quello che poteva spendere. Il presidente mai ha dato più di quello che poteva dare. Ma evidentemente qualcosa sta andando storto nel corso dell'ultimo lustro. E il risultato di questo bilancio ce lo sottolinea ancora di più. Quindi la Lazio ha generato una perdita importante. Andiamo a dare un occhio al patrimonio netto della Lazio. La stagione precedente era pari a meno 8 milioni di euro. Si è allargata questa forbica. Siamo a meno 38 milioni di euro. La situazione inizia ad essere abbastanza importante. Però state tranquilli i tifosi della Lazio. Non succede niente. La stabilità finanziaria del club è sicuramente mantenuta dai maggiori ricavi che la Lazio avrà da questa Champions League. È stata mantenuta dal mercato estivo della Lazio che ha generato più 10 milioni di euro. Quindi la sostenibilità finanziaria non è messa in discussione. Ma il modello Lazio sotto la gestione di Claudio Lotito, sì, si deve invertire la rotta. La società inizia ad avere un debito sempre più importante. L'indebitamento della Lazio superò ora i 245 milioni di euro in crescita rispetto alle stagioni precedenti. È qui che bisogna porgere la nostra attenzione. Lotito deve porgere tutta la sua attenzione su questa voce. La Lazio si è sempre distinta per sostenibilità. Lotito ha sempre pagato i suoi debiti. Ha preso la Lazio in una situazione di insolvenza grave. Si è assunto tutti i debiti della Lazio e paga ogni anno all'erario dello Stato più di 5 milioni di euro. Finirà di pagare appunto queste imposte tra qualche anno. Quindi la sostenibilità sta da sempre al centro del suo progetto. Ma negli ultimi anni qualcosa sta andando storto e questo qualcosa può mettere a ripendaio gli acquisti, il valore della rosa, il valore del progetto, soprattutto le prospettive sportive che il club ha. I tifosi hanno voglia di vincere titoli, tifosi hanno voglia di tornare protagonisti in Serie A e in Europa. E quindi qualcosa deve essere fatta per cambiare rotta. Chi ne pensate voi ragazzi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti che ve ne sembra della situazione della Lazio. Siete convinti che questa stagione il club possa invertire rotta? La Champions League è una manna dal cielo. La Lazio deve andare più avanti possibile sia per il risultato sportivo, per il prestigio, ma sia per le sue casse in modo da investire una squadra sempre più forte in maniera tale da dare sicurezza al presidente che possa investire di più. Siete d'accordo? Scrivetemelo ancora una volta nei commenti. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!